ciao gente come va tutto bene adesso siamo le sei e mezza oggi non siamo andati al mare perché pioveva faceva un brutto tempo era freschino e adesso verso le sei le cinque così è uscito il sole che spaccava le pietre mannaggia non sono potuto andare al mare almeno per un'oretta non è giusto non è giusto non è giusto perché non è giusto perché non è giusto allora adesso io sono incazzato nero perché io ma al mare non sono potuto andare adesso ragazzi mi racconta una storia della vacca vittoria morta la vacca finita la storia adesso alle sette così prendiamo andiamo a mangiare al ristorante e mangiamo il caviale poi mangiamo la pasta ragù poi mangiamo la carne e poi il caffè la sigarettina e poi fanno una passeggiata a lungomare e poi andiamo a casa e poi a dormire spero che questo video vi piaccia commentatelo condividetelo e tante belle cose a tutti i miei amici di youtube ciao belli ciao belli